Accelerate your business. In che modo Intel aiuta le imprese ad essere più competitive? Nell'ambito della trasformazione digitale, Intel e Microsoft vogliono collaborare per aiutare le aziende, in particolare le piccole e medie aziende, ad essere più efficaci sul mercato. Ci sono tecnologie che oggi nessuno può tralasciare. La capacità di usare servizi in cloud, la mobilità, la possibilità di essere presenti su un mercato digitale, sempre più importante, è la possibilità di analizzare i dati. Questi sono quattro elementi che sono alla base della trasformazione digitale. Noi insieme a Microsoft vogliamo fare il possibile affinché l'impresa, medio e piccola, sia in grado di utilizzarle al meglio. Quali sono le attività di Intel a supporto della digital transformation? Intel supporta le aziende nell'ambito della trasformazione digitale, innanzitutto portando sul mercato delle piattaforme tecnologiche che aiutano a essere più efficienti. Con il lancio dell'ultima generazione, la famiglia Core di sesta generazione, siamo riusciti a portare sul mercato una piattaforma che è specificatamente ottimizzata per Windows 10. Su questa base riteniamo che le piccole e medie aziende possano portare un grande vantaggio dal punto di vista dell'efficienza dei propri processi aziendali.